Un bel ritrovato a tutti, un bel ritrovato agli amici centauri, perché il posto è proprio quello che fa per voi. Io sono ospite di Magic Bike, mi trovo a Torino, in corso casale 479, e il mio benvenuto va ad Andrea Lussiano. Ciao! Ciao Sonia, abbiamo tante possibilità come usato per i nostri clienti, se venite a trovarci in questa parte dell'anno abbiamo delle ottime promozioni per voi. La puntata è dedicata all'usato, un usato selezionato, certificato di qualità, ma ci sono anche delle chicche particolari, introvabili nel mercato dell'usato. Sì, noi siamo specializzati nell'avere sempre prodotti particolari e in questo momento ve ne faremo vedere alcuni. Prodotti particolari con promozioni particolari, sottolineo perché? Adesso abbiamo una promozione attiva sul furto incendio per 24 mesi, abbinato al finanziamento, all'interno del costo della rata, quindi molto conveniente. Molto conveniente, molto interessante, carta e penne alle mani e occhio al prezzo e alla qualità. Iniziamo con una moto molto particolare, un R1 del 2008, una versione Santander, quindi edizione limitata, scariche a Krapovic, forcella e mono ammortizzatore Olinz e tanti altri accessori. Un prodotto molto interessante, soli 30.000 km, il prezzo 7.390. Vi ricordo tra l'altro che i nostri prezzi in salone includono già tagliando garanzie e passaggio di proprietà, quindi sono comprensivi di tutti i nostri servizi. Rimaniamo sempre in casa Yamaha con un R1, sempre la serie 2007-2008, 43.000 km, tantissimi accessori, colorazione sterile guarda e anche comprensiva di tutti i pezzi originali. Passiamo poi a una bellissima Honda CBR1000, una super sportiva ma un po' più adatta all'uso stradale, 27.000 km del 2009. Abbiamo anche una super sportiva dal carattere un po' più docile, quindi una Ninja 650, adatta anche chi ha le prime esperienze su una moto di questo genere, dotata di ABS, una moto molto recente, quindi già 2018, Euro 4, km solo 3.400. Passiamo a un Honda CBR600F, una moto più stradale, 66.000 km del 2011, un ottimo mezzo per affacciarsi al mondo delle super sportive. E qua un pezzo molto particolare, un Aprilia RSV1000R del 2004, soli 11.000 km, completamente originale in tutte le parti, 4.750 euro. Rimaniamo sempre nel segmento super sportive con il CBR600F del 2006, soli 26.000 km, anche questa moto qua completamente originale, 3.690 euro, compreso tagliando garanzie e passaggio di proprietà. I nostri usati sono molto vari, abbiamo anche delle possibilità per il mondo custom, qui abbiamo un XV950 del 2015, solo 4.600 km, unico proprietario, una moto molto interessante. Se no, abbiamo anche una Triumph Speedmaster 865, più adatta per viaggiare, del 2010, soli 6.000 km. E qui troviamo una moto molto particolare, un Honda F6C, il custom sulla base dell'Onda Goldwyn, quindi 6 cilindri del 2001, 95.000 km. Un altro prodotto introvabile, una Yamaha V-Max 1200, una moto del 2003, molto potente e completamente originale. Nel segmento scooter abbiamo anche molte possibilità, rimanendo in casa Yamaha, quindi X-Max 300, colorazione grigia. In questo momento abbiamo 4 possibilità, tutti del 2017, sotto i 10.000 km, molto interessanti. Passiamo a un Peugeot Satellite 500, ABS del 2008, 37.000 km, un mezzo molto pratico, comunque un 500, quindi adatto a fare anche percorsi extraurbani, soli 2.600 euro. Ed entriamo all'interno del mondo T-Max, partendo da un T-Max del 2006, già la prima serie a iniezione elettronica. Se no, un'altra possibilità, sempre sulla stessa serie, nero, un po' più sportivo. Ed ecco qui un Yamaha T-Max 530, la serie 2012-14, soli 28.000 km, 7.190 euro, compreso il passaggio di proprietà. Troviamo qui un altro T-Max 530, la serie con il faro LED, 2016-21.000 km. Honda Integra 750, 2014, molto interessante con il cambio DCT, bassi consumi, 23.000 km, 6.590 euro. E troviamo qui un Yamaha 530 T-Max, la versione DX, quindi full optional, manopole riscaldate, sella riscaldata, parabrezza regolabile elettronicamente, cruise control e tanti altri accessori. 2018, quindi molto recente, 11.000 km, ancora in garanzia Yamaha. Andrea, vedo che c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono tante offerte, ci sono tante chicche, introvabili anche nel mercato dell'usato. Un usato selezionato, certificato, lo ribadisco di qualità, ma anche garantito, non dimentichiamo la garanzia. Assolutamente, tutti i nostri usati sono garantiti 12 mesi e sulle moto più recenti, quindi con meno di 10 anni, possiamo estenderlo a 24 o 36 mesi totali, che è molto interessante comunque. Poi approfittatene anche perché la promozione d'acquisto è interessante, quella legata al furto incendio. Esatto, sì, anche su questi nostri usati c'è la possibilità di mettere il furto incendio, 18, 24 o 36 mesi, abbinato al finanziamento e risulta molto conveniente. Certamente, per soddisfare tutte le vostre emozioni e soprattutto le esigenze di mobilità, sicuramente Magic Bike è il posto che fa per voi. Siamo a Torino, ve lo ricordo, in corso casale 479. Io ringrazio Andrea Lussiana per la sua ospitalità e per la sua competenza, anche alla prossima. Ciao Sonia, ciao a tutti. E come sempre, linea alla regia. E come sempre, linea alla regia.